Terminata la stagione con una splendida salvezza conquistata matematicamente all'ultima giornata con l'ottimo pareggio a Vibu, il Messina è già al lavoro per programmare la prossima stagione e lo ha fatto a partire dal discorso stadi. Ieri la società giallorossa è inoltrato al comune di Messina l'istanza di conferimento del diritto di superficie per la gestione dello stadio comunale Giovanni Celeste con relativa riqualificazione ed adeguamento dell'impianto sportivo. Come già preannunciato dalla società è reso noto dalla nostra emittente durante la trasmissione Malalingua condotta da Emilio Pintaldi durante la quale abbiamo mostrato in esclusiva alcune tavole del progetto di riqualificazione dello storico stadio di Vioreto, la CR Messina alla prossima stagione vorrà disputare il campionato di Lega Pro al Giovanni Celeste. Il Franco Scoglio non verrà abbandonato, anzi dovrà diventare il quartier generale del Messina anche per eventuali ritiri. Ma l'attenzione al momento è tutta concentrata al Giovanni Celeste che si vuol far diventare una piccola bomboniera dotata di tutti i comfort per spingere i tifosi giallorossi a gremirlo in ogni ordine e grado. I tecnici e progettisti già da ieri sono al lavoro, chi avrà avuto occasione di transitare in zona avrà visto sicuramente l'impianto luce acceso dopo tanti anni di buio. Le torri faro hanno una certificazione che consente di utilizzarle per diversi anni ma sicuramente i fari saranno sostituiti. Ci saranno tanti lavori da fare per un importo di circa 2 milioni di euro ma il tutto dovrà essere avallato dalla politica messinese che adesso dovrà deliberare la concessione pluriennale dell'impianto per consentire alla società giallorossa di programmare il futuro nel migliore dei modi.